we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e mamma mia mamma mia finalmente stiamo cominciando a godere appieno della nuova patch 8.30 uscita ieri su fortnite una patch davvero molto interessante che ha visto ovviamente l'introduzione del nuovo furgone di riavvio se avete giocato in squad sicuramente avrete avuto modo di provarlo ma ragazzi nel video di oggi voglio parlarvi delle sfide della settimana numero 7 quelle che usciranno proprio questo pomeriggio andremo a vederle insieme e non mancheranno nel corso della giornata dei video che vi spiegheranno come completarle nel modo più veloce parleremo anche però degli oggetti segreti scoperti in game picconi deltaplani addirittura skin e ovviamente il nuovo pack il nuovo bundle in arrivo nel negozio non sappiamo quando ma probabilmente prestissimo che ovviamente molto molto interessante da vedere voglio comunque ringraziare però tutti voi e tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xiu derone grazie mille ragazzi per il supporto mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima eh dai la domandina raga la domandina ve la devo fare mi raccomando i vostri commenti le vostre risposte qui sotto ed è una domanda molto semplice dai quale preferisci tra i due pirati sono usciti l'altro ieri i no ieri sono usciti i due bucanieri ragazzi a parer mio meravigliosi mi piacciono davvero tantissimo skin che ricalcano alla perfezione la season numero 8 con tanto di piccone e il deltaplano invece sbloccabile nelle sfide relative ai bucanieri la mia preferita è lei ragazzi lei mi piace molto molto di più anche se lui è veramente tanta tanta roba ma lei ha quel qualcosa in più nello stile personalizzato che mi piace ditemi ragazzi il vostro preferito qua sotto nei commenti ma quindi ciao ciao le bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vederle queste sfide della settimana numero 7 ragazzi danneggia fai danno ad un avversario con il piccone quindi dovremo danneggiarli per un totale di 100 con il nostro piccone organizzeremo ragazzi secondo me se giocate nella rissa squadre easy ve li fate proprio facili facili i danni col piccone quando c'è un po di bordello date tre o quattro picconate in giro dobbiamo anche visitare il crocevia del ciarpame e il quartiere per la prima volta cioè come primo punto di atterraggio nello stesso match visitare il parco pacifico e dusty divot che è ovviamente come secondo punto di atterraggio borgo allegro e spiagge snob come terzo punto di atterraggio per completare la seconda sfida visitare gli accampamenti dei pirati in un singolo match quindi non sappiamo quanti secondo me saranno almeno tre nello stesso match ragazzi quindi potete anche approfittare in realtà delle sfide dei bucanieri per atterrare negli accampamenti dei pirati e picconare la gente che non riesce a prendere le armi secondo me si può risolvere anche così la partita non capisco deal damage to players from above non riesco sinceramente la traduzione non mi ha aiutato in italiano quindi questa è una sfida che se qualcuno ne ha capito qualcosa in più me lo dica io sinceramente non sono riuscito a tradurla correttamente cercare i chest al sponde del saccheggio o a spiagge snob sette chest e queste sono le due sfide più impegnative fare danno a un avversario mentre noi siamo su una zipline oppure fare danno a un avversario mentre lui è su una zipline zipline secondo me è molto particolare molto impegnativa anche questa io vi consiglio di farla sempre in rissa squadre che dovreste risolvervela bene killare avversari nei luoghi indicati in poche parole ammazzare qualcuno in ogni città indicata le rivedremo meglio questo pomeriggio ma andiamo avanti e parliamo anche di tutte le novità che sono arrivate con questa patch 8.30 a partire dalle skin per le armi molto molto bella questa ragazzi riprende un pochettino non lo so le pietre con uno sfondo azzurro marino ma ce n'è un'altra questa ragazzi non sarà disponibile nello shop ma fa parte del pack che tra poco vi farò vedere ancora nuovissima skin per le armi secondo me e non dite che non è così a me sembrano le bende di una mummia ragazzi non voglio dire altro a me sembrano le bende di una mummia avanti ancora invece per l'ultima skin per le armi niente di eccezionale una camo classica spero che sia non comune quindi con 200 vbucks te la porti via e te sei contento e sei contento ma andiamo avanti ragazzi ed ecco un'altra grandissima novità per tutti i possessori della skin reflex acquistata con il bundle nvidia e fortnite quindi comprando una geforce arriva finalmente la skin personalizzata in poche parole il colore della di reflex da verde smeraldo diventa nero con tanto di backpack e deltaplano e nuovo piccone tutti con lo stile unico se qualcuno di voi ragazzi ha acquistato ha avuto la skin dalla scheda grafica sicuramente avrà ottenuto anche questa versione davvero molto molto carina ma andiamo avanti ed ecco invece il piccone regalato a tutti quelli che hanno save the world se avete fatto l'accesso al vostro fortnite avrete sicuramente ricevuto come premio questo piccone petalo di rosa se non ricordo male il nome è questo deltaplano che assomiglia molto come trama alla skin per le armi che vi ho fatto vedere poco fa ma non sono gli unici oggetti che già conoscete ragazzi perché in game sono stati trovati anche dei nuovi picconi ad esempio quello che state vedendo molto carino una palma con sotto le due ballette di cocco tanta tanta roba mi piacciono queste cose tutte inerenti alla giungla ci stanno veramente un botto il più minchia il piccone più ignorante ed equivoco del game raga i wanted i wanted the banana pickaxe lo voglio ragazzi il piccone con sopra la banana sbucciata non voglio neanche commentarlo andiamo avanti e questo invece ragazzi lo sapete che piccone è dai che l'avete capito questo ragazzi deve essere il piccone della skin rovina skin rovina che potete già visualizzare nella sezione sfide della vostra lobby ma eccola qua comunque per chi non l'avesse ancora vista molto interessante una specie di cavaliere infuocato mi piace ragazzi mi piace l'elmo mi piace anche questa specie di armatura si abbina con il suo backpack uno scudo in fiamme ovviamente molto interessante dai non è brutta come skin della season non ho capito perché l'hanno spoilerata hanno fatto la minchiata però non è male ma andiamo avanti ragazzi ed eccolo qua finalmente il bundle di cui vi parlavo qua ragazzi si va innanzitutto a vedere che nel bundle non sappiamo ancora il nome della skin meglio io non me la ricordo ci sarà il piccone nice i like it e anche la skin per le armi che vi avevo fatto vedere a inizio del video ma se notate c'è anche ragazzi il libro che sta ad indicare sfide e vbacs per tutti quelli che acquisteranno secondo me costerà 19,99 come il dark cupid in poche parole questo bundle molto carino io ripeto lo vediamo sembrava ai tempi john wick sembrava uno stile di john e invece non è così è un tipo con uno smoking rosso la testa in fiamme e la maschera tipo iron man adesso non ho ben chiaro quale sia il ruolo nella storyline di questa season di questo personaggio però non è male il piccone è in realtà qualcosa che avevamo già visto uno stile nuovo di un piccone adesso non chiedetemi bene di quale ma non è la prima volta che lo vedo e molto probabilmente sia il piccone che la skin potranno essere ottenute completando le sfide che ci verranno assegnate insieme ovviamente ai vbacs beh ragazzi di cose anche in questa pace ce ne sono state davvero tantissime e ce ne saranno tante altre io però vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su codice creator xioderone noi ci vediamo alle 13 in live ciao ciao